Eccoci qua, Francesco ci parlava da una giornata spettacolare come quella che oggi c'è qui a Roma, chissà da voi qua in tutto il territorio nazionale com'è il tempo. Certo che la natura è viva, la primavera sta per esplodere, a Roma è tutta una fioritura di peschi, di albicocchi, di tutti quegli alberi che mettono prima i fiori e che attirano gli impollinatori. Infatti in questi giorni se uno va a passeggiare nei parchi pubblici, nei giardini, perfino sul proprio balcone e fa un attimo di silenzio può sentire il ronzio delle api, ma non solo, di tutti gli insetti impollinatori che sono tanti, diversi, preziosissimi, purtroppo anche tutti quanti molto in pericolo. Allora, Ronzi è il bellissimo titolo di un libro di Giovanna Olivieri. Buon pomeriggio, cara Giovanna, ecologista, scrittrice, tu vivi in campagna, sei abituata a cercare le forme di vita allo stato naturale. Sì. E questo è l'ultimo di tanti libri che hai scritto. Perché l'hai dedicato ai ronzii? L'ho dedicato ai ronzii perché ho voluto innanzitutto privilegiare l'aspetto uditivo. Noi sapiens ci orientiamo molto con la vista e gli altri sensi, organi di senso non li utilizziamo tanto, no? Quindi l'udito, l'olfatto, il tatto li lasciamo un po' indietro. Invece la natura, secondo me, va conosciuta anche con l'udito e con l'olfatto. In questo caso i ronzii, spesso nelle persone ho notato che producono, suscitano delle reazioni negative. La prima reazione di molte persone è la paura. La paura di essere punti. O comunque disagio, fastidio alle volte, no? La zanzara, la mosca danno fastidio. Gli insetti aculeati ti producono questo timore di essere punto. È un timore che spesso è ingiustificato. Allora, questo libro, meravigliosamente illustrato da Luciano Ragozzino, a cui faccio i miei complimenti, sfata anche molti luoghi comuni, no? Su questi animali. Sì, io innanzitutto, il primo sicuramente è quello che a impollinare sia solo l'appe domestica, no? È ovvio che l'appe domestica esiste in gran numero perché noi la alleviamo, no? Quindi come tutti gli animali che l'uomo alleva, è molto numerosa. Però gli insetti che impollinano e che sono molto efficaci nell'impollinazione sono tanti. Io quando dico questo, spesso la gente rimane stupita. In Italia, solo di api selvatiche ce ne sono un migliaio di specie diverse. E sono molto diverse, sia dal punto di vista morfologico, quindi, che delle dimensioni, che delle abitudini. L'appe domestica sappiamo dove nidifica. Noi forniamo loro il luogo e loro creano le loro cellette di cera, eccetera. Le api selvatiche nidificano in tantissimi modi diversi. Addirittura c'è qualche ape che costruisce i suoi nidi, depone le sue uova all'interno dei gusci delle lumache, vuoti, no? E poi altre api che tagliano le foglie per foderare, per realizzare le cellette dei loro nidi. E' un mondo, secondo me, di una ricchezza straordinaria. Che si conosce troppo poco. Che si conosce molto poco. E l'impollinazione, ricordiamo, è fondamentale per la sopravvivenza nostra e del pianeta. Certamente, perché gli impollinatori garantiscono la sopravvivenza di tutti gli ecosistemi naturali, anche semi naturali, quelli anche della nostra agricoltura. Quindi è fondamentale, perché sono, diciamo, l'anello che collega il mondo vegetale, che è l'unico mondo che riesce a catturare l'energia del sole e produrre energia. Perché per quanto l'uomo si sforzi, non riesce a produrre energia da solo. E quindi io dico che gli insetti in generale, in particolare gli impollinatori, ma tutti gli insetti sono l'alfa e l'omega di tutte le reti trofiche terrestri. Sono l'inizio e la fine. Perché l'inizio? Perché appunto aiutano a riprodurre le piante. E la fine? Perché ci sono molti insetti che degradano poi la materia organica e quindi rimettono in circolo l'energia. Ecco, Giovanna, questo libro è molto importante, anche per sensibilizzare tutti noi e farci capire come siano a rischio questi insetti. Abbiamo un cartello che ci dice quali sono i fattori che stanno minacciando gli impollinatori nel mondo. Allora, ce lo puoi spiegare? Sì, purtroppo gli insetti impollinatori sono molto a rischio e sono messi a rischio in particolare dalla nostra agricoltura. L'agricoltura industriale che fa un uso massiccio di sostanze di sintesi, sia per combattere gli insetti nocivi, che però spesso non sono delle sostanze selettive. Fattabularà la biodiversità delle loro cespuglie, dei loro habitat, di tutto. Quindi quello che sappiamo è un flagello. Però poi vicino ci sono altre fonti di crisi per questi insetti, tra cui l'inquinamento luminoso. Anche l'inquinamento luminoso, ad esempio per i lepidotteri notturni, per le falene, ma anche la nostra gestione del territorio, perché noi stiamo cementificando sempre di più, quindi noi distruggiamo. Per fare un esempio molto banale, una scarpata su cui fino a ieri nidificavano delle api selvatiche o delle vespe scavatrici, viene spianata per far posto al parcheggio di un centro commerciale. Ecco, lì, quello è un habitat che è stato distrutto. Dobbiamo immaginare che questi sono animali piccoli, il loro habitat non è la foresta pluviale. Cioè, distruggere un habitat non vuol dire distruggere ettari di bosco, in qualche caso... Il problema è che gli insetti inclinatori sono piccoli, si vedono poco e uno fa finta di non vedere lo scempio. Purtroppo i sapiens sappiamo che se possono non vogliono guardare quello che combinano. Noi cosa possiamo fare nel nostro piccolo per aiutare gli insetti impollinatori? Ecco, secondo me abbiamo detto che l'agricoltura purtroppo sottrae fonti di cibo, perché elimina tutti gli incolti, ha eliminato le siepi campestri, ha eliminato gli arbustetti, eccetera. Quindi noi possiamo ripristinare questi ambienti. Di fatto l'Unione Europea adesso sta dando dei contributi agli agricoltori proprio per dedicare una parte dei loro terreni asseminativo di specie mellifere, quindi di specie vegetali che possano nutrire non solo l'ape domestica, ma anche le api selvatiche e anche altri impollinatori. Ma anche noi nel nostro piccolo, nel nostro giardino, possiamo fornire loro delle fioriture gradite. Ricordiamoci che le fioriture gradite agli impollinatori non sono la bella pianta che piace a noi con la fioritura grande, doppia, tripla, ma sono le fioriture quelle che noi chiamiamo erbacce. Icardi è una pianta che non amiamo molto perché è molto spinosa, è fastidiosa, loro l'adorano. E così tante altre piante, diciamo, che magari hanno anche delle fioriture per noi inconsistenti, insignificanti. Ma anche di più, dai colori poco attrattivi per noi, ricordiamo che le api vedono i colori in maniera diversa da noi, quindi loro non sono attratti dalle stesse cose che, dal punto di vista cromatico, che attraggono l'essere umano. E così tanti altri impollinatori, abbiamo parlato finora di api selvatiche, ma ci sono altre classi di impollinatori, ci sono ad esempio i lepidotteri, le farfalle, e quelli li amiamo perché sono belli anche esteticamente, non ci fa problema. Però già la farfalle, la falena, già ci piace di meno perché ha colori più smorti, è pelosa, quindi per noi è più bruttina. Però le falene impollinano più delle farfalle, ad esempio la falena colibri, che è quell'insetto che alcuni scambiano per calabrone, che si muove velocissimo. Io ce l'ho sempre nel mio terrazzo, bellissima quella. E che è stupendo perché è capace di volo stazionario, e secondo me è un mago veramente del volo. Ecco, quell'insetto lì impollina tanto. Eccola? Eccola. Eccola, guardate quanto è bella, bellissima. E così anche i ditteri, che sono in realtà mosche, sono degli ottimi impollinatori. Dunque, quando sentiamo un ronzio vicino a noi, godiamocelo, senza paura di venire punti, perché tanto gli insetti impollinatori quando hanno da fare non si preoccupano di noi, no? Giusto, giustissimo. Non è che vengono a pungerci così, e quindi noi possiamo stare lì e spiarli, guardarli, godere di questo ronzio. Fotografarli anche da vicino. Grazie Giovanna, è stato un piacere conoscerti e intervistarti. Grazie anche per me, grazie tantissimo. Grazie Giovanna Liviedi.